Un'assemblea provinciale, quella organizzata a Lecce, alla presenza del segretario nazionale del SIAP Giuseppe Tiani, per discutere di tutte le problematiche inerenti al comparto della Polizia di Stato, anche alla luce dell'imminente obbligo di Green Pass nella pubblica amministrazione. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che ci vede impegnati da tempo e la presenza del segretario generale servirà proprio a rendere note ai colleghi quali sono le dinamiche che si muovono intorno a questo tipo di situazioni. Una riorganizzazione del lavoro per evidenti ragioni dovute al periodo che abbiamo purtroppo trascorso. Abbiamo fatto la nostra parte come poliziotti nei periodi ancora più bui e riteniamo di dover ancora fare la nostra parte facendo i conti anche con tutto ciò che comporta la riorganizzazione degli uffici alla luce, per esempio, del Green Pass. Oggi ci sarà una riunione con i dirigenti, con le organizzazioni sindacali nella quale faremo qualche passo avanti per far capire e soprattutto per far ragionare i colleghi intorno a questo argomento. I poliziotti hanno delle specificità tali da dover attuare le norme non in diversità rispetto agli altri lavoratori ma ovviamente compatibilmente con le loro esigenze di servizio.